Il classico rivestimento protegge solo il materasso. Il rivestimento traspirante aerosleep invece non protegge solo il materasso ma anche il bambino. Fa la differenza alla solida struttura tridimensionale aperta che forma un strato d'aria. In tal modo il piccolo può continuare a respirare liberamente anche quando si gira sul pancino. Inoltre lo strato d'aria facilita la regolazione della temperatura corporea. Se è curioso di saperne di più sui prodotti aerosleep, scopri anche gli altri nostri video. Iscriviti al nostro canale su youtube o visita aerosleep.com